I fossili della Val d'Alpone sono un patrimonio universale che tutto il mondo ammira e come tale andrebbero considerati dall'UNESCO. Questa mattina in conferenza stampa è stato presentato il volume del fotografo Claudio Portinari a sostegno della candidatura all'UNESCO dei fossili della Val d'Alpone. Il sito maggiormente conosciuto a livello mondiale è Volca, ma molti fossili sono conservati da tempo nelle sale del Museo di Storia Naturale di Verona, più di 9.000, solo quelli provenienti dai giacimenti di Volca e in altri musei locali. Un patrimonio di enorme valore naturalistico e documentaristico per tutti gli studiosi del mondo, con il ritorno in superficie di testimonianze di 250 specie di animali e di piante. Questa mattina erano presenti l'assessore ai rapporti UNESCO Francesca Toffali, Massimiliano Valdinucci dell'Accademia di Belle Arti di Verona, Fabio Saggioro, archeologo dell'Università di Verona, Gianberto Bocchese, presidente della ATS, Associazione Temporanea di Scopo nata nel 2017 Val d'Alpone, il fotografo Claudio Portinari e gli autori dei testi Silvana Annabianchi e Roberto Zorzin, paleontologo.